Anche quest'anno, in occasione dell'imminenza del Natale, la Biblioteca della Regione Piemonte di Via Confienza 14 a Torino propone una serie di iniziative per accompagnare il tempo dell'Avvento e l'Epifania. A inaugurare gli eventi, emozioni e musica del concertista e docente Nino Carriglio, con brani tratti da opere, tra gli altri, di Bach, Albinoni, Mozart, Schuber, Morricone e Piovani.